salve ragazze e benvenute bentrovate siete nella mia nuova rubrica fate voi la domanda come vedete ho qui preparato due mazzi di carte abbiamo i mini tarocchi della nuova visione e le sibille di nostra damus che cosa faremo faremo la domanda che mi è stata richiesta da una di voi io ho fatto tutta una lista è arrivata adesso questa domanda arriverà per me la persona giusta o sono destinata a rimanere da sola allora io inizio a mischiare i miei tarocchi e ovviamente sapete che questo è uno short quindi sarà un approfondimento minimale ecco perché sono domande che mi fate voi quindi sono richieste e io cercherò in insomma 4 5 minuti di accontentarvi allora vediamo se intanto divideremo questa domanda in in due linee quindi intanto vediamo se arriverà per voi la persona giusta ok quindi se arriverà la persona giusta ovviamente non siete destinata a rimanere da sola no quindi una domanda copre l'altra quindi arriverà per me la persona giusta o sono destinata a rimanere da sola vediamo se arriverà la persona giusta allora qui già abbiamo uscita una carta il 10 di coppe e abbiamo anche il matto arriverà per me la persona giusta allora vediamo qua sono uscite delle carte e noi le prenderemo sono abbastanza e quindi facciamo lo smarzo e vediamo il fondo mazzo e lotto di denari allora ragazze andiamo a vedere se arriverà per voi la persona giusta allora io già qui come vedete in queste carte già la prima carta che mi viene è un bel 10 di coppe sapete che il 10 di coppe è la famiglia e la è la coppia è proprio la realizzazione no diciamo l'unione diciamo la maturità sentimentale qua vedo un matto quindi ci sarà un nuovo inizio ci sarà una situazione che sicuramente voi avrete e direi anche abbastanza presto perché il matto ha sempre una velocità oddio sarete sempre un po indecisi con questo due di bastoni insomma non è che vi butterete subito in questa situazione anche perché voi avete probabilmente chiuso una situazione del passato quindi insomma vi siete rigenerata questa sì questo sì però qui diciamo avete ancora un po di strada da fare vedete portate un po le spalle a questo re di bastoni che incontrerete comunque sicuramente qua mi venite fuori come la regina di coppe quindi qua parliamo di segni di fuoco sagittario leonariede segni di acqua cancro pesci scorpione o portarne l'ascendente ora anche se non siete non fate parte di questi segni non vuol dire che non siete voi o che comunque questa questa energia non riguardi voi la regina di coppe è proprio una donna che aspetta l'amore è una donna dolce saggia una donna che sa sacrificarsi per l'amore il re di bastoni è un re passionale ma che comunque può anche dare diciamo una sorta di realizzazione perché comunque un uomo onesto un lavoratore allora il paggio di bastoni ci parla che questa situazione potrebbe anche nascere con con contatti telefonici e anche con una situazione prima amicale che poi piano piano si va evolvendo qui abbiamo anche un otto di denari quindi qua ci sarà la costruzione il lavoro vedete ci si impegnerà per questa relazione quindi ragazze siete destinati a rimanere sole ma certo che no comunque noi facciamo la domanda e vediamo se siete destinate a rimanere sole vediamo se voi qui mi viene che un'altra persona giusta una persona giusta la incontrerete però noi giusto per andare a fare la domanda vediamo se appunto resterete da soli allora queste le mettiamo più in qua così andiamo a vedere qua c'è la ruota e c'è l'eremita vediamo se siete destinati a rimanere da soli allora qui si è girato una carta l'ho vista mi sembra di averla vista no forse è andato dall'altra parte che mi sembra di averla vista no allora ritorniamo ancora quindi vediamo se siete destinati a rimanere qua sono uscita al alcune carte e le prendiamo tutte alla cui abbiamo un 5 di denari abbiamo la temperanza abbiamo 10 di bastoni abbiamo 3 di denari e il diavolo allora ragazze diciamo che voi siete un po una persona come dire la stella come fondo mazzo siete una persona un po che tendete un po al vittimismo a piangervi addosso magari siete anche una persona che spesso vi isolate perché qua abbiamo l'eremita abbiamo la carta della fortuna nella ruota però questo è un lato del vostro carattere quindi comunque già pensare di rimanere destinata a rimanere da soli beh diciamo che che già è un un pensiero che non è che insomma voglio dire facciamo in tanti no quindi questa energia si vede che questa persona che mi ha richiesto questo interattivo e tante altre che si potranno riscontrare tendenzialmente hanno un po quest'amore per la solitudine tendono un po a isolarsi a raffreddarsi eccetera al magari appena hanno una problematica si isolano questa temperanza però vi invita a non fare più così perché vedete voi dovete rischiare no in qualche modo qua c'è il diavolo e 3 di denari e 3 di pentacoli il diavolo si nasconde tutte le incertezze e la pericolosità sempre del diavolo ma è un fuoco di passione di attrazione di comunque visto in maniera positiva il diavolo è sempre un'azione molto forte molto potente ovviamente bisogna poi con la temperanza tenerlo a bada però qua ragazze per quando voi siete pessimiste e ci avete un po il pallino di rimanere da sole qua non rimarrete da sole qua ci sarà un incontro che nascerà come vi ho spiegato prima con i messaggi magari come un amico ma poi quasi evolverà in una situazione sentimentale matura e soprattutto in ogni caso come andrà a finire questa storia voi comunque da sola non ci rimanete perché se voi vi togliete da dosso questo vittimismo che avete insomma più o meno vittimismo per dire più che vittimismo pessimismo che avete su di voi magari vi ritenete sfortunate perché probabilmente avete avuto delle situazioni un po così insomma non buonissime perché qua un 10 di bastoni mi viene la carta della morte c'è avete subito spesso degli allontanamenti delle persone che vi hanno lasciato al freddo però ragazze e ragazzi 3 di denari il diavolo fuoco 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 passione e con la carta delle stelle voi sicuramente non rimarrete da sole andiamo a pescare adesso una carta del appunto delle sibille di nostra damus e quindi vediamo se arriverà la persona giusta e o siete destinati a rimanere da sole vediamo se arriverà la persona giusta una carta viene la carta della rosa quindi dovete ascoltare i consigli che vengono da persone amiche sagge perché il vostro orgoglio potrebbe essere ragione di gravi imbarazzi quindi qua ascoltate un po le persone che vi stanno intorno vedete però voi siete una persona buona vedete il fanciulla avete un animo da fanciullo le vostre azioni suggerite dalla bondà dalla bontà e dalla semplicità del vostro animo vinceranno le insidie eh del diciamo del dei vostri nemici insomma diciamo delle negatività che vi possono eh insomma girare intorno quindi ragazze e ragazzi ottimismo mi raccomando arriverà la persona giusta certo che arriverà siete destinati a rimanere da sole no è soltanto nel vostro eh pensiero ma voi non siete destinati a rimanere da sole questo era il mio interattivo fate voi la domanda mi raccomando mettetemi un like per chi insomma non l'ha fatto ehm insomma si vuole iscrivere al canale attiva la campanella così le mie notifiche tutte le mie iniziative vi verranno annunciate con la notifica allora io vi ringrazio eh di essere stati con me vi do appuntamento al mio prossimo interattivo ciao a tutti e a tutte